E' dalla Spezia che il Milan sta ottenendo risultati tra il mediocre e il merdoso. E' riuscito a vincere a Roma, è riuscito a vincere a Firenze, è riuscito a vincere a Verona, ma in casa sta ottenendo risultati vergognosi, dove non batte nessuno da due mesi. L'ultima vittoria è stata col Trottone due mesi fa contro una squadra di merda ultima in classifica. Non so più che dire io, dalla Spezia stiamo facendo cagare, non meritiamo di andare in Champions, se non arriviamo in Champions, neanche quest'anno che eravamo capolisti, veramente sarebbe un qualcosa di ignobile, di vergognoso, qualcosa da mandare tutta esapparata. E ovviamente, naturalmente, se il Milan non arriva nelle prime quattro, va cacciato Pioli, va preso uno tra Sarri e Spalletti, assolutamente ci mancherebbe altro. Grazie a tutti.